37 amministrazioni comunali, 54 incontri formativi divulgativi realizzati, oltre 11.000 studenti formati delle scuole di primo e secondo grado del territorio campano e da quest'anno anche quelli degli Atenei della Campania. Sono i numeri dell'edizione 2023 di SISaggio, Guida Sicuro, l'iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dall'Associazione I Meridiani che si appresta ad inaugurare, mercoledì 17 maggio, presso la mostra d'Oltremare di Napoli, alla presenza anche del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il villaggio dove gli studenti potranno cimentarsi alla guida dei simulatori presenti all'interno del Pullman azzurro e salire a bordo dell'auto Lamborghini della Polizia di Stato. Gli alunni potranno percepire i rischi dovuti al mancato rispetto delle regole su strada al villaggio sulla sicurezza stradale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Saranno poi protagonisti del villaggio dello sporto con particolare riguardo alla tutela della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti a cura del CONI Campania e dell'Unione Stampa Sportiva. Presente anche lo stand dell'Associazione Napoli Pedala impegnata sui temi della sicurezza stradale dei soggetti deboli. Nel pomeriggio alle 15 appuntamento con l'artista Walton Zed che darà dono di una sua tela sulla sicurezza stradale a Graziella Viviano presidente dell'Associazione Sotto gli Occhi di Elena. La cerimonia che si terrà all'interno del villaggio Sisaggio Guida Sicuro sarà condotta da Alessandro Bolide direttamente da Made in Sud. La manifestazione scaturisce dal progetto Sisaggio Guida Sicuro sulla sicurezza stradale promosso da Regione Campania e attuato dal Lanci con l'Associazione Meridiana e la partecipazione dell'Università di Napoli Federico II, della Luigi Vambitelli, dell'ANAS, dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, dell'Associazione Mondiale della Strada, Infrastrutture e Trasporto e di diverse forze dell'Ordine.